Chioggia TV Lo staff di We Love 90 lancia un nuovo format di divertimento, si chiama Pop Star. Il primo evento nasce già sotto i migliori auspici, con un'ottima cornice di pubblico e tanta voglia di divertimento. Ad ogni evento una Pop Star protagonista, in questa prima festa, il mitico Vasco Rossi. A celebrare il mito della musica italiana, il live acustico degli Havana Club. Aver pensato che fossi il suo capo, ho cercato di dimenticare, di non guardare. Questa sera le telecamere di Chioggia TV al Tomato di Sottomarina per il primo appuntamento Pop Star. Appuntamento dedicato anche alla musica live, infatti siamo qui con i componenti della Tribute Band Havana Club. Ciao ragazzi e benvenuti alle telecamere di Chioggia TV. Grazie a voi. Allora, da dove nasce il progetto della Tribute Band di Vasco Rossi? Dalla testa di quest'uomo. Da dove nasce, dalla passione immagino per Vasco? Nasce dalla passione per Vasco, che ci ha unito sempre. Pensa che io e lui lavoravamo in discoteca, ci salivamo alle 4 di mattina. E avete cambiato il genere, tra l'altro. E da un sogno, così è arrivata la realtà, abbiamo creato una band spettacolare, con un musicista come Marco Gabrielli, amarghe, professionisti. Abbiamo avuto anche la possibilità di sentire la bellissima voce, sia sua di Davide che è sua. Grazie, complimenti a voi ragazzi, vi lascio una buona serata e divertitevi, mi raccomando. Saludate gli amici di Chioggia TV. La musica live ha accompagnato la cena a buffet con le specialità del tomato. La serata è stata realizzata in collaborazione con il Chioggia Tino Riso e Vino, l'aperitivo più amato in città, che ha realizzato una degustazione dei suoi prelibati risotti. Dalla mezzanotte esplode la festa, con la musica house e commerciale di Alex T, Sandrino, Gianni Nardo, Alessandro Pavanati e Marco Bici. L'evento è stato organizzato da Chioggia TV, Scalzoni Marini, Radio BCS, Balneari Staff. Prossimo evento, sabato 26 marzo, We Love 90 presenta We Love Fitness, in collaborazione con Claudia Piscina e Fitness. L'evento è stato organizzato da Chioggia T, Sandrino, Gianni Nardo, Gianni Nardo, Gianni Nardo, Gianni Nardo.